BNI è un'organizzazione unica al mondo Basata sul giver's game Dare Per ricevere Siamo tutti imprenditori come te Ognuno di noi aggiunge qualcosa di buono Di positivo E dai ragazzi E' importante aiutarci sempre tra di noi La chiave della buona riuscita E' la creazione di rapporti di fiducia In un'atmosfera di generosità E altruismo Avete mai visto una scena simile? L'unica forma di competizione E' una gara amichevole A chi riesce a fare meglio per gli altri Mi sono iscritto a BNI Perché posso aiutare altre persone Dalle quali ricevo in cambio altro aiuto BNI si basa sul passaparola strutturato Con cui poter costruire sole di sodalizi Basati sulla fiducia Tranquillo Non è a multilivello Non hai ancora capito cos'è BNI Correttezza Fiducia Generosità Responsabilità Atteggiamento positivo Questo è BNI Questo è BNI Ti aspettiamo mercoledì mattina BNI Bisalta Guverts Grazie a tutti Bruic Stuara Vittucia Vittucia Allora Vittucia Para Hal Vittucia 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 Grazie a tutti.